Domani è un grande giorno, domani è il 25 aprile, domani è il 72esimo anniversario della liberazione, domani dobbiamo ricordare, non commemorare, dobbiamo ricordare il sacrificio dei tanti morti per permettere a noi di essere liberi, domani in piazza, corone e mazzi di fiori, forse in un abitudinario rito che molti non sanno neppure perché esista, troppi non conoscono la storia e si limitano alla ritualità, senza fermarsi a pensare perché la resistenza c'è stata e da chi è stata combattuta, una guerra di liberazione finita il 25 aprile 1945, che lascia però ancora aperte molte domande in attesa di risposta, è finita la resistenza? Noi non rispondiamo a questa domanda, senza tentennamenti ricordiamo però che troppe sono ancora le guerre, le ingiustizie che affliggono questa terra, i partigiani hanno combattuto per ridare libertà e democrazia all'Italia, dando vita poi a una Costituzione tra le più belle e perfette del mondo, una carta fondamentale che mette al primo posto il diritto al lavoro, seguito poi dall'uguaglianza e dalla fratellanza, ma domani quanti sindaci ci saranno in piazza con il tricolore per ricordare? Ci saranno anche quelli che hanno fatto opposizione all'accoglienza, che hanno cercato in ogni modo di non aiutare i fratelli in cerca d'aiuto e solidarietà? Quanti filistei scenderanno in piazza a parlare di cose che non conoscono, di partigiani, di ribelli e di antifascismo, senza sapere che le loro legore, i loro comportamenti, nulla hanno a cavvedere con il sacrificio dei milioni di morti uccisi sulle nostre montagne e nei tanti lager disseminati per la vecchia Europa. Ci sono e ci saranno anche condannati al razzismo, condannati per razzismo, che oseranno apparire in pubblico per parlare di libertà, ma nello stesso tempo pronti a firmare ordinanze per limitare la libertà. Viviamo questo 25 aprile pensando a chi soffre e chiede un pezzo di pane, alle parole di Papa Francesco che chiede aiuto per i tanti che sulla terra soffrono perché non sono liberi.